SIGLA La, la, sciogona, la, sciogona Ciao amici In questi mesi mi sono stupita, devo dirvi Della convinzione e della serietà con cui Donne a caso, in giro Hanno predetto, previsto e pontificato Sul mio stato di gravidanza E so che non sono l'unica a cui è successo Ma che succede a tutte le donne in dolce attesa Lì fuori Dal sesso di tuo figlio in base alla forma della pancia Alle predizioni sul parto in base alla fase lunare A quale sarà il suo film preferito quando avrà 18 anni In base alla direzione dei tuoi peli sulle gambe Mamme e nonne sono gli oracoli di queste antiche verità Che dispensano a piccolissime dosi E meglio ancora se in versioni completamente discordanti fra loro Così da mandarti per bene fuori di testa Quindi mi vorrei dedicare oggi Tra il serio e il faceto A smentire alcune di queste leggende metropolitane Che alleggiano sulla gravidanza Quindi leggende mammopolitane Il mangia per due ad esempio Bagianata Anzi potrebbe essere addirittura molto dannoso Perché il peso in gravidanza va tenuto sott'occhio Per tutta una serie di fattori Ci piacerebbe molto Fosse vero ma non è così E quella vecchia storia che devi soddisfare tutte le tue voglie alimentari Altrimenti tuo figlio presenterà delle chiazze sul corpo Che le ricorderanno a vita Bagianata Io ricordo ad esempio quando sono stata nel mio primo trimestre in vacanza a Zanzibar Dopo dieci giorni di vacanza in Africa E quindi dopo dieci giorni di cibo non propriamente casereccio Quando stavamo tornando io avevo una voglia di pasta con le vongole devastante Penso di aver parlato di pasta alle vongole per 15 ore di volo a Tommy Una volta arrivati a Milano Stravolti dal viaggio della speranza Tommy colto da uno slancio d'amore Uno slancio eroico Si fionda all'esse lunga Stanchissimo Sporco dal viaggio Sudato non importa Però è andato a comprarmi tutto l'occorrente Per farmi la pasta alle vongole che io tanto volevo E per cui tanto gli avevo rotto le balle A piatto servito Tra l'altro una cera invitantissima Sono stata colpita da un piccolo attacco di nausea Stomaco chiuso E quella voglia di rimettere Il piatto l'ho lasciato lì Com'era Non l'ho neanche toccato Dovrei quindi aspettarmi una macchia sulla fronte di mio figlio A forma di sotè E comunque sempre meglio una vongola che una cozza Riguardo al sesso del bambino poi Ne ho sentite di ogni Il calendario cinese ad esempio Secondo il calendario cinese In base all'età della madre Al momento del concepimento E al mese del concepimento Il bambino sarà maschio o femmina Ovviamente l'abbiamo fatto Usciva femmina E sarà maschio Oppure Il pendolo sul pancione Allora c'è un amico di Tommy in Argentina Che fa reiki Fa cose col pendolo Chiedetemi cos'è Non l'ho mai capito Non penso neanche sia legale Ha fatto la prova del pendolo a distanza Usciva femmina E sarà maschio Poi la nonna ostetica di un mio amico consigliava vivamente di fare questa prova La prova del coltello Il papà posiziona due sedie Con due cuscini Sotto uno dei due cuscini Nasconde un coltello Fa entrare la madre Che non ha visto nulla E la fa accomodare a piacimento Su una delle due sedie Se la madre si siede sulla sedia dove è nascosto il coltello Sarà maschio Qui siamo nella scienza Nella sua forma più pura Quindi entro e mi siedo sul cuscino Senza il coltello Femmina No Sarà maschio Infine Chi mi ha osservata nei miei primi mesi di gravidanza E ha notato che Unendo tutti i brufoli che avevo sul mento Sarebbe uscito un magnifico mandala Ha avanzato l'ipotesi che potesse essere maschio E infatti È l'unico che ci ha preso E subito dopo le fesserie sul sesso del nascituro Le fesserie su quanto la gravidanza ti renda bella Personalmente Io avrei ucciso chiunque Nei miei primi mesi di gravidanza Mi addossava quel Ma sei radiosa Di circostanza Non è vero Non sono radiosa E se invece di dirmi la prima cosa Che ti passa per la testa Appena mi vedi Pur di riempire un silenzio di 30 secondi Ti fossi soffermato un secondo A guardarmi bene in faccia L'avresti capito da solo Che non sono radiosa Manco per un cazzo E neanche fine in questo momento Scusate Ebbene sì Lo stato di grazia che bacia Le donne in gravidanza Donandogli una pelle rosea e tonica I capelli pantenne E unghie in grado di scalfire il granito Mi ha saltata a pie pari Soltanto in questi ultimi mesi Ti sento di aver recuperato un po' l'aspetto Di una persona sana e florida E mi sento anche piuttosto carina Ma i primi mesi più che radiosa Lebrosa Altro grandissimo luogo comune Secondo me riguarda il sesso Il sesso è inteso proprio come Ma adesso che sei incinta Tu e Tommy Grandi prestazioni eh Tommy Che uomo fortunato Chissà che voglia Chi? Io? Ah Io no no Io no parlo in lingua di sesso No io no Capito no Donne Se vi sentite Valchirie a cavallo Per tutti e nove i mesi di gravidanza Io non posso che fare Veramente i complimenti a voi E anche ai vostri partner Per la grandissima energia Fisica e mentale Donne che vi sentite In quello stato di larva A volte nel torpore del bozzolo Della spossatezza Vi dico Abbracciamoci tutte In un grande cerchio Dell'amicizia E ripetiamo insieme Un giorno ritorneremo Un giorno ritorneremo Un giorno ritorneremo Un giorno ritorneremo A seguire Una simulazione di vita reale Una lista di consigli E informazioni random Alcune completamente senza senso Che ti arriveranno O potrebbero arrivarti A cui puoi decidere di attingere a caso E in base a criteri del tutto personali Oppure puoi decidere di lasciarli stare E buttare via tutto Come nella vita reale Cospargiti la pancia di olio di mandorla Cospargiti la pancia di olio di frittura Prendi integratori per i capelli Non metterti lo smalto sulle unghie Non tingerti i capelli Mangia bacche di goji per i capelli Sniffa i semi di chia per le unghie Provato ma solo per capire Cosa fossero i semi di chia Non toccare i cani Tocca solo i barboncini Stai sempre seduta A gambe incrociate davanti alla tv Dormi in spaccata per abituare le anche Parla con la pancia ogni giorno Parla con la pancia solo nei weekend Dormi solo sul fianco sinistro Se dormi sul fianco destro Gira al letto Fatti impacchi di bava di lumaca Sai le ginocchia secche Fai gli esercizi per il perineo Almeno tre volte al giorno Esercizi per il perineo sì Ma non nella ZTL Il perineo non esiste Chiedi l'epidurale Quando entri in ospedale Fai la richiesta per l'epidurale Appena compi 18 anni Se chiedi l'epidurale non sei figlio di Maria Fai esercizio fisico moderato Iscriviti all'Iron Man Non alzarti dal letto Per nessuna ragione al mondo Evita il sesso come la peste La peste ti viene se non fai sesso Avrò la peste Vabbè Morale della favola Donne In gravidanza ne sentiamo così tante da impazzire E per quante misure ed accorgimenti Tu decida di adottare Non saranno mai sufficienti Per portarti a casa il titolo di donna E madre esemplare Perché la donna che hai di fronte Avrà sempre fatto di più E molto meglio di te Non te lo dice con cattiveria Lo fa perché nella sua esperienza Ha funzionato E crede di aiutarti Dandoti il consiglio più originale Lo fa anche perché lei ha già partorito E fa parte di un'altra squadra Squadra dove tu Finché non lo fai Non puoi entrare E a quella donna che ti chiede Se ti sei fatta gli impacchi Di miele da caccia A giorni alterni sotto Natale Tu rispondi di sì Ma in cuor tuo rilassati E vivi e goditi questi nove mesi Facendo quello che ti va di fare Ma soprattutto facendolo a modo tuo Perché io credo che il tuo istinto E il tuo buonsenso Siano la legge più giusta per te E per il tuo bimbo Ho finito Sto zitta Vi do l'appuntamento A settimana prossima Nuovo podcast Con un approfondimento Interamente dedicato A mio marito Me l'avete chiesto in tantissimi Nessuno Ciao Comunque ho sentito Degli impacchi di foie gras Miracolosi per le vene varicose Ti risulta Eh?